Premessa, gare del genere, una squadra forte come il Pescara, specie dopo essersi trovata in vantaggio, le vince, punto. Invece i biancazzurri riportano da Cava dei Tirreni un punticino discreto ma che lascia parecchio amaro in bocca. Innanzitutto per le occasioni sciupate di chiudere il match una volta messo il muso avanti in avvio di ripresa, ma anche perché la Cavese ha acciuffato il pari grazie a tanto ardore agonistico e nulla più, penalizzante pure un arbitraggio, quello del signor Barbeno di Brescia che nega un rigore netto su Zizzari e che regala la pulizione da cui scaturisce il pari Cavese. E allora bisogna accontentarsi, d'altronde l'amalgama è ancora un miraggio per il cruciato Cucureddu che a fine gara non si presenta in sala stampa per impegni personali. E ancora l'assenza imprevista di Tognozzi in mediana e quella ancora più pesante di Bebi Marcolino Verratti cui magari affidarsi nel finale in mezzo al temporale trasformatosi in grandinata. La gara, almeno nel primo tempo, prova a farla la Cavese che però palesa evidenti limiti tecnici. Le folate dell'ex terramano Favasuli e Dischetter portano a cross buoni per le inzuccate di Tarantino e dello spilungone Turienzo. Entrambe fuori bersaglio. Più problematico il tiro franco di Tarantino al tredicesimo su cui Pinna è costretto al grande intervento. Poi sale, seppur in modo compassato, il Pescara che si fa vedere dalle parti di Russo con la bordata murata di Bonanni e soprattutto con l'incursione aerea del generoso ma poco servito Zizzari che va giù sul contrasto con Cipriani. L'arbitro è a due passi, il rigore è sempre evidente ma si continua a giocare. I 36 a fosi gradi del Lamberti evidentemente offuscano i riflessi. Sul finale di frazione il brivido corre per iniziativa della solita coppia Tarantino-Favasuli che però non trova lo specchio da posizione più che privilegiata. Aria diversa nella ripresa e non solo per tuoni e saette che abbassano la temperatura. Il Pescara impone da subito la sua solidità e al sesto passa. Bonanni verticalizza per vie centrali, artistico segue alla perfezione e di giustezza supera Russo. Primo gol in piangazzurro per artistico, bellissimo per preparazione ed esecuzione. La Cavese accusa il colpo, per una decina di minuti gli Aquilotti girano a vuoto. Il Pescara domina, Gessa offre allo stesso artistico la palla giusta per la doppietta ma la girata dell'attaccante romano è imprecisa. Un minuto dopo Petterini, tra i migliori, sventaglia tutto campo per Gessa che si ritrova solo soletto davanti al Russo ma perde l'attimo e si lascia recuperare. È tempo di cambi, Mengoni si fa male e lascia il posto a Romito. Il Pescara tenta la gestione ma è preso di sorpresa dalla reazione tutto cuore dei locali che impegnano Pinna con la fucilata di Bernardo prima di acciuffare il pari. Il fallo di Romito poco lontano dall'area manda su tutte le furie la truppa bianca azzurra. Il motivo si capisce un attimo dopo quando Farina scaglia il fendente che apre la barriera e che Pinna vede infilarsi alla sua destra. E se non bastassero le recriminazioni già descritte in precedenza ecco in pieno recupero l'ultima chance sulla punizione tagliata di Coletti che esalta Russo e sulla successiva conclusione di Dettori che termina col fuorigioco dello stanco e malpiazzato Zizzari. Peccato, Cava va in archivio. Oggi è già tempo di mercato. Da domani si pensa al derby di Lanciano. Samuelio Livi c'è un po' di rammarico perché il pareggio della Cavese è giunto a pochi minuti dal termine. Sì, molto rammarico. Come ho detto prima, gli episodi... Io non voglio mai parlare dell'arbitro però purtroppo quando viene a giocare in questi campi qua forse è un po' intimorito, un po'... Non lo so. Sta di fatto che due episodi a favore nostro ce li ha dati contro. Ecco, la punizione del gol loro era inesistente e dopo cinque minuti un rigore nettissimo con espulsione purtroppo ci ha danneggiato la partita. C'è rammarico perché comunque sia io perlomeno dal campo non avvertivo la sensazione di poter prendere gol. Purtroppo su una palla inattiva il gol può arrivare sempre. È andata così, però prendiamo questo punto e consapevoli che le partite non tutte si possono vincere e consapevoli, ripeto, di aver fatto un punto in un campo molto difficile perché comunque sia sono 4-5 anni che la Cavese fa sempre molto bene, soprattutto in casa. e niente, andiamo via con la consapevolezza che siamo ancora più forti.